Questa è l'Ora della Terra, Castellabate 28 marzo 2015. Un appuntamento dal nome simbolico Ora della Terra, nato a Sydney nel 2007, ora in grado di mobilitare centinaia di milioni di persone in oltre 7.000 città e 162 nazioni. Un appello che anche in Italia è diventato sempre più importante, con oltre 300 spegnimenti previsti tra città, monumenti e aziende, pronte a restare al buio per sostenere un messaggio determinante. Anche il Comune di Castellabate, attraverso il Forum Giovanile, ha aderito a questa iniziativa, accendendo 500 candele sulla spiaggia della Marina Piccola. Il Forum Giovanile ha deciso di aderire ad un importante progetto internazionale, curato dal WWF, che si intitola l'Ora della Terra. In sostanza si tratta di sensibilizzare la cittadinanza al risparmio all'ecologia ed in particolare spegnendo le luci in determinate frazioni delle varie città. Noi come Comune di Castellabate e come Forum Giovanile abbiamo deciso di aderire e provvederemo allo spegnimento delle luci qui a Marina Piccola, a Santa Maria di Castellabate e con l'ausilio delle lumine e dei barattoli comporremo il numero 60, che è il numero caratteristico di questa manifestazione, con sotto una scritta Castellabate. È un piccolo gesto di sensibilizzazione a tutela dell'ambiente, a tutela del risparmio energetico e siamo stati molto contenti di aderire a questo progetto, sperando che sia un altro piccolo segnale per poter difendere il nostro territorio.